Il 5 gennaio avrà inizio a Palermo la tredicesima edizione del Festival Internazionale delle Musiche e delle Arti Elettroniche Main-Off, un appuntamento che si rinnova di nanno in anno per gli amanti della musica underground. Main-Off Festival è una rassegna di musica elettronica sperimentale, il cui spettro sonoro spazia dai valori classici legati alla manipolazione dei suoni ambientali, alle produzioni legate alla scena industriale contemporanea, passando per le esperienze della Glit della Minimal Music di Aurea Teutonica, per le elaborazioni ambientali e droniche, per le derive del rumorismo proprio tanto alla musica concreta quanto di certa no-wave. Negli anni la location di Main-Off è variata sensibilmente in relazione alla proposta che di edizione in edizione i curatori della rassegna hanno inteso proporre alla città di Palermo. Il Festival, inoltre, propone di far scoprire luoghi più o meno nascosti della città, dei quartieri del centro storico, all'interno di alcuni spazi storici di giurisdizione comunale. Quest'anno l'evento avrà luogo all'interno dell'Auditorium Real Teatro Santa Cecilia. Sul palco, come sempre, si alterneranno diversi artisti della musica di nuova generazione, sia a livello nazionale che internazionale, e naturalmente saranno presenti le etichette discografiche di punta del momento della musica elettronica. In questa edizione saranno presenti musicisti provenienti da ogni parte dell'Italia, oltre che dalla Turchia, Polonia, Germania e dalla Francia. Le nostre telecamere cureranno l'evento che sarà inserito nel nuovo programma di Canale 74 BPM dedicato alla musica alternativa e innovativa. La prima puntata andrà in onda, giovedì prossimo alle 21. Grazie a tutti.